Un saluto agli amici di Trebimeteo da Stefania Cattaneo. Vediamo insieme le previsioni per il 4 maggio. Buone notizie al centro nord perché vi segnalo il ritorno del bel tempo, quindi cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, però al sud purtroppo rimarrà ancora parecchia instabilità. Ma prima di entrare nel dettaglio previsionale andiamo a dare un'occhiata insieme alle temperature, partendo dalle minime stazionarie, quindi pressoché nella norma in tutta Italia, massime più in linea con il tempo, quindi più miti al nord con valori compresi tra i 18 e i 23 gradi, in calo invece al sud con valori compresi tra i 15 e i 21 gradi. Entriamo ora proprio nel particolare partendo dal nord. Nord Italia caratterizzato da bel tempo, quindi soleggiato e mite, solo da segnalare comunque nel pomeriggio la formazione di qualche temporalino sul nord appennino in locale sconfinamento a Levante Ligure. E poi al centro perché ci sarà ancora atmosfera parecchio instabile, in particolare sulle regioni adriatiche, che varrà con tendenza al miglioramento entrosera dal nord, soleggiato altrove pur comunque con qualche acquazzone sul basso Lazio. E ora il sud del nostro stivale, dove prevediamo comunque ancora tanta instabilità con piogge e temporali un po' su tutti i settori, migliora comunque dalla serata con fenomeni in esaurimento, eccetto però che attorno allo stretto di Messina. Bel tempo anche sulle isole maggiori, salvo comunque delle piogge e degli acquazzoni nelle zone interne, in particolare durante il pomeriggio.